Domenica 6 marzo in Italia sarà la volta della 39esima edizione del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. Questa corsa tornerà all'interno del calendario nostrano dopo lo stop forzato dello scorso anno. Nel 2014 l'ultimo vincitore della corsa toscana fu il talentuoso britannico Adam Yates che precedette due azzurri Davide Formolo e Francesco Manuel Buongiorno. La gara avrà luogo intorno alla città di Larciano e si snoderà nella provincia di Pistoia. Il percorso sarà caratterizzato da più circuiti. Il primo sarà abbastanza semplice altimetricamente e misurerà 22,5 km. Questo si dovrà ripetere per 4 volte totali e rappresenterà la prima semplice metà della corsa toscana giunta alla 39esima edizione. Ben più interessante ai fini della corsa agonistica sarà il secondo circuito il quale riguarderà la seconda ed ultima parte della giornata larcianese. Le tornate previste saranno 4 e i chilometri da percorrere per ogni giro 27,5 ma ciò che più conta sarà la scalata del San Baronto, una di quelle salite che chi ama il ciclismo non può non conoscere. Il poker di passaggi sul San Baronto sarà decisivo per le sorti della gara. Tuttavia dallo scollinamento alla linea d'arrivo mancheranno 6.000 metri, 4,5 dei quali in discesa mentre gli ultimi 1.500 in pianura.